Amici chitarristi ben ritrovati, io sono Michele Bianchi e oggi vi farò ascoltare il Way Huge Atreides. Grazie per la visione! Il Way Huge Atreides è il synth pedal prodotto in edizione limitata, ispirato sia nel suono che nel layout ad un mini sintetizzatore del 1980. Produce un suono monofonico che può essere scolpito grazie ai numerosi cursori presenti sul pedale. Andiamoli a vedere. Il primo cursore sulla sinistra è il volume di uscita. Troviamo poi Sense, ovvero il controllo sulla sensibilità di filtro a inviluppo, il Range, ovvero il controllo della gamma di filtro a inviluppo, il Bright per il controllo dei toni alti sull'EQ generale, il Fuzz per il controllo del Fuzz Phase, il Rate per il controllo sulla velocità del Phase e il Sub per il controllo delle ottave più basse. Questo agisce in parallelo rispetto al nostro suono. Ho registrato una parte di chitarra in un loop e vi farò sentire come ciascun parametro va a scolpire il suono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora vi faccio sentire i tre preset che ho utilizzato nella demo di prima. Grazie a tutti. All'interno del pedale troviamo due controlli, il primo è lo slide switch che andrà ad agire sul controllo delle ottave. Switchato in alto produrrà l'ottava bassa mentre switchato in basso arriverà fino a due ottave sotto. L'altro controllo è il trim pot che regolerà il feedback del phaser. Il pedale include anche un circuito di protezione per prevenire danni da sbalzi di tensione. Bene ragazzi con questo video è tutto ci vediamo alla prossima ciao